Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Dalla e oggi siamo insieme a Il questo Siamo su Birdie13 Ormai abbiamo preso la fissa Su questo gioco Ma è tipo una droga Però diciamo che Potrei essere io Potrei? Potrei Ma tu sei sempre dillo E sono io Davvero? Sì Altrimenti giochi a carte con Jason Quando ci vuole ci vuole giocare a carte Cioè il povero è sempre da solo Cioè ormai abbiamo fatto Come il blocco Percezione Sento Ho la pistola Io sicuramente Ho sparato un colpo per sbaglio Sono fottuto amici Ma la porta non è chiusa Ciao Ma vuoi già la porta Non mi stiavi perché la porta non è chiusa Perché riesci così? Ho preso Sfondo alla finestra Il coglione Il coglione Il coglione Io? Sì Wrestling Sono bravo vero? Ciao Tommy Sei Tommy? Cioè no È Tommy Non credo sia Tommy Hai 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 Cattivi È la fine per voi però È la fine per te Sai No dai Cazzo Vabbè Lei cosa fa? Attenti da un abbraccino Ti piacciono gli abbracci? Un bel abbraccione Attento a sputare cose che non dovrete È la fine Però gli abbracci ti piacciono Piace anche a qualcuno Ok Chi sono Tommy Jarvis? Ci sono Tommy? Chi sa di sì Sono Tommy Jarvis Ai 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 Questa è brutta Questa è brutta Sto arrivando? Giusto? Come questi qui Che hanno appena fatto una fine Che non dovrebbero averla fatto Sto anche dove sei? Sto anche dove sei? Sto anche dove sei Ah bene Da cosa l'hai visto? Le cadavrino ha lasciato Ma è una parte Quello Io ti devo dire C'è una bella batteria in mano Ma qualcuno qua dentro c'è C'è È rosso Non là ci sarà qualcuno Ma non c'è nessuno Ah ecco dentro Dentro il bagno Eh sì L'ho aspetta La rivela fula Ciao Dai c'è liberata Non c'avevo spazio per far niente Non so nemmeno dove sei Qualcuno Dentro la stalla Io no Allora Non puoi avere Oh Immaginavo Non ti fossi liberata Ahia Uno scarpone in faccia Non è una special Special Poi Vedo qualcuno che sta correndo Mi esce a decidermi Sono chiaro di te? Sì ho la rabbia Ah sì tipo uno di quei topi che hanno la rabbia Sì certo guarda Sono uno di quei topi che hanno la rabbia Che fulino Che fulino Sono uno di quei topi che hanno la rabbia Ehi sei che hai vedo qualcuno No Però quasi Manca poco Ahia si sta liberando Cioè perché si sta liberando Sta scappando Beh Non so per quanto poterà scappare amico mio Ah ok Sono proprio Alla fine Alla fine Alla fine Oh insomma Ma se rifai il teabasso io lo lascio stare Credo che lo lascerò stare Qui stai? Eh? Sono bene Sono bene Avevo voglia di un bel Tommy per cena Io no Scusa Mario Ma dovrò eliminare uno della tua specie maremma Allora Io so Mi vado da un tipo Mi vado da un tipo Un tipo Che io so Che tu sai Che tu non ti vuoi fare Cioè se ti potresti fare acchiappare Tanto c'è il coltello Guarda ti tiro questo in un video Io ti tiro questa Oh che cattiva le hai Amici Insomma mi è scappato un tipo Allora di sera Cioè l'ora di pranzo No no Sei fame sei fame Ti regalo un coltellino Grazie ti regalo un coltellino They want to Già C'è uno vicino non per dirti C'è uno vicinissimo uccidemi il buono bene se fai il buono ti prego si ne voglio ancora perché se no vuoi qualche qualche piede in viso se poi il kamikaze laggiù domino sono io sono io all'aspetto faccio 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 io non ho niente ti posso portare a fare un giro no no dai prego soltanto se te mi dici dove io ti lascio andare ok è dove ti è lì e mentre è conosciuto è uscito e lì come mai io non per come mai ho in partito non trovo mai coltelli e questi non ce ne hanno srenta nominata c'è il fucile da tempo è che ha rubato il fucile fommi io vi ero un po le finestre a caso qualcuno non sa che io la rabbia e posso lei lei tentare aspetta fermo tu non fare niente fermo fermo ne è rimasto qualcun altro prima no io mi ricordo che qualcuno che si chiama tommy jarvis in passato mi aveva ucciso giusto è sotto la maschera fermo voglio vedere fermo voglio vedere fermo voglio vedere guarda in tutta la mia bellitudine bellissimo vero che ho numerato si era male però più male si farà più male adesso un comune vuole compren선ati a stori aia ti è piaciuto che è piaciuto il regalo quanto la faccia di jason per la peppa fatti ricoverare Allora Famo c'è una cosa Io non interrompo il video Però vi dico che Ricordo del questori E sono state delle cuffie Vero questori? Sì sì E poi sbaglio Oggi Lui già era andato tutto al camp Tutto felice lì Però non sapeva che io ero ancora vivo E quindi beh Sì le cuffie da nere e verdi Sono diventate rosse Un botto di taglio Ma perché io sono sempre da solo Me lo sono chiesto anch'io tipo Anch'io Sì 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 Deve andare a una macchina No io devo andare a prendere un'arma Così tu paro All'alzheimer Aspetta eccola Eccola Sì era questo Maremma Garbo Lidofuoco Ahia Questa benzina Lidofuoco Oh andiamo da quel tipo Ok perché anche so Che cosa Maremma no Sto dicendo se mi avete portato Non c'è nessuno porto sul resto Bene Camperiamoci qua Vieni questo camper Di non lo sento Di non lo sento Sto rimando Eh no Ho preso il terreno Soproto Non mi spingere Vai Puglia Puglia Vai Vai O te che è una forza strabiliante Che strabiliante Sai prima te davanti Come ho fatto a pigliarmi male Ah già quel tipo mi ha tirato Che cazzo mi ha tirato Un martello? No è un tubo Ma che martello è un tubo? Sembrava un martello Ritimo i friend Eccoci Ci siamo Vieni dal tipo Prenditi un'arma Lascia quel coso Ah ok Lo sai mettere la tanica? Sì Ah Porca puttana amico Ok ho capito ora No Ho pigliato Adesso ho sbagliato Vai Vai gioco Dammelo Merdo Ho preso un cagone Come ho fatto? Due fatti Tre fatti No Ma dai Amico devi venire Ma come si fa? Dovente sai come si fa benzina? Ma quanto fare no? No Vai 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 Che fatto ce l'ho fatta? Perfetto Perfetto Ci manca La batteria Che io sono Cioè io non so proprio Non lo so nemmeno Tocca la batteria Cioè non so Cerchiamo la ragazza Ehi Ehi C'è la batteria C'è la batteria Sto scherzando? Non sto scherzando C'è la batteria Però non è fatto niente C'è la batteria C'è la batteria Aiuto Aiutami 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 Ok Dai Oddio 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 ieri vestiti e per il canto che lui mi vado a prendermi va bene dove morite poi morite uomo di te ma come io voglio la batteria stiamo picchiando jason facendo sì però non ho più lo stame in attenzione molto era qua la batteria uomo di corpi trovare a non so se non mi vuole prendere mi ha preso non ti provare se non è così che si trattano le donne e provare non si gioca con il regalo di farci cazzo su una paura più morto io morto sapeva vero fine sono è sono morto no la fine della giocata il 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 l'ha usata se è no la batteria vai avanti in teoria dovrebbe essere stata lassopra il cosa stiamo rendendo quella parte credi c'è vista lì lì dove ho trocato la cattola e direi che la zona sott'acqua è sott'acqua alla fine per te è vero successo non sanno sai però io sì sì ma per culo trovati a me io mi sono comportato da eroe a differenza tua tommy jarvis da morti facciano fatto un cazzo vabbè ma da bambino era sicuramente più forte che da ora da bambino almeno le ucciso jason super giù a un colpo da pensi uccidere un un colpo scusa se per uccidere jason super giù da bambino cioè ci ha messo una una un macchete nell'occhio e poi gli ha iniziato a tirare colpi con non mi ricordo con quale arma credo che un fucile con un colpo possa fa tanto che poi non è alla fine non è nemmeno morto che l'ha risuscitato bravo testa ricazzo eccolo deve fare uno più non è visto per gesù eccolo ma non è certo il coltello ok 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 se jason è qua vicino da te oh se tipo si è ripreso alla fine è qua è entrato? oh porca merda no 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 si 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 bastardo ma perché continui a correre? ma poi alla fine com'è fatta ad entrare? c'era una parte sul retro? ah no ah no sono là ok oddio ok ho coltello schifo ahio oh go di là di là di qua di là di là di qua è vero coglione c'è no 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 non ci prego oddio 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 non lo stai girando cioè vai proprio mi scava è la fine no no vabbè raga eh ci siamo divertiti abbiamo fatto un paio di minchiate via e sono stato anche jason noi ci vediamo anche nel prossimo video bella raga taking a live